Ciao, il 5 giugno si vota, mi avrete visto per le strade del quartiere a fare volantinaggio in questi giorni. Sono candidata e vi spiego perché. Faccio parte del comitato Frutti di Bosco, abbiamo fatto diverse iniziative. Ci tengo a che venga creata una rete tra le associazioni del quartiere e si promuovessero iniziative di cittadinanza attiva, attraverso i patti di collaborazione con il Comune. Si può fare e si possono promuovere e facilitare le relazioni intergenerazionali. Ho studiato relazioni internazionali e adesso mi occupo di relazioni intergenerazionali, anzi mi piacerebbe occuparmene. Spero di avere questa possibilità.